Sono arrivato a Gaeta oggi, mi stavo a fare una passeggiata sul lungomare, è arrivata una, mi guarda, mi fa, aspetta, dico sì che mi si ritira, dammi tempo, no? Ma guarda che mica siamo tutti Belair Rodriguez o Michelunzi, ma queste non hanno tirato fuori sti ragazzini, dai orecchie. Io le odio, ma io le odio profondamente, ma io mica dico così perché io le invidio, io le odio proprio. Queste sono quelle che se vanno dal pizzicarolo, al salumiere, lo guardano e gli dicono, vorrei 65 grammi di prosciutto, ma solo alla carta ci pesa 65 grammi. Se il salumiere gli dice, al signore, netto, ho detto 65, quando ci vado io, mi fa tre etti di parma, al signore 65, li lasci. Che tanto due mi faccio fuori prima di arrivare alla macchina. C'ho una fame. A me mi ha ripirato il mio marito, perché l'uomo, quando è dunque, che tu gli dici voglia venfio, te se mette vicino e pensa a te sta a fare un'opera meglio te rocco si freddi. Pare in cinese, in poche modo, ma siamo noi che ci lo fiamo credere. Perché lui si pensa che noi si stiamo a lamentare per lui, ma noi già stiamo a pensare avanti. E lui gli fa, amore, ti piace? E noi, dice, oddio, la lavatrice ancora non ha finito. Oddio, devo scongelare il petto. E' inutile che poi, quando noi rimanemo incinte per farvi l'alibi, venite con noi a far corso preparto, che vi mettete dietro e ci aiutate a respirare. Ma tu non te dovevi avvicinare prima, l'animaccia tua che io stavo tanto bene. Che poi te fai nove mesi di cavie gonfie, una panza che te rimane per dieci anni, un culo tanto, un seno florido che poi te diventano tu carsini, nasce la creatura, la guarda, lo dico, tutta il padre, ci tua, me so fatta a mazzo tanto, sto a sudasto. Ma come tutto il padre? Ma fallo te, fallo. Per carità, per carità, sono nato dal dietologo, mi ha detto, guardi signora, lei deve fare la dieta delle quattro P, cioè pasta, pane, pizza e patate la devi levare. Dico, metteci alla quinta, cioè, porca mignotta, che campo a fa? Fammi morir, no? Metteci alla quinta, no? Ma come fai a levare la pasta? Ma come fai a levare la pasta che non c'è cosa più buona al mondo? E il dottore mi ha detto, guardi che la pasta se la puoi mangiare, 40 grammi, ti puoi mangiare quanti? 40 grammi? Ma io 40 grammi sento giusta se è buona di sale. Dai, e mettila, che è pronta. Per carità quanto è bello, signor, quando ti siedi a tavola, traaaah, ti arriva qua la cofana dai tre etti e mezzo, dice, guarda che non è tanta la pasta, è il condimento, a me pure quello mi piace. Metteci un bel grasso, metteci quella sfretta di bella di pancetta, comincia a girare con la forchetta, che la mangi giù a tavola non si invecchia mai, ma perché me dovete far fare la dieta? Perché voi siete diventati troppo americani, troppo esterofili, state a guardare le chiappe dell'arte, guardate le chiappe vostre. È inutile che vi mettete i stiperizoma, che vi dovete comprare pure la tenaglia, se non la ritrovata la mutanna. Mettetevi quelle belle mutanne come famo io con la follesa, che se aggrappiamo tutte le chiappe, che sennò c'è il rimbombo d'arriva sotto al ginocchio. Lascia fa, lascia fa. Io sono diventata mamma dopo i 40, quindi il metabolismo mi ha salutato da un pezzo. Dopo i 40 faccio il segno della croce, voi ragazzette che andate a ballare, a discoteca, in lounge, eh? Dai, mangiate e bevete mo' che dopo te saluto. Vai, batti ai mani, brava, batti ai mani, ma a vent'anni e culo sotto durano poco, eh? Facciate la croce, è bella. Te sei messa il pantalontino giro coscia, eh? Eh, poi te voglio vedere sui 40, te metti i cosi a zuhawa. Te saluto ciccia. Io pure andavo in giro con la chiappetta di fuori. Mo' mi devo coprir fino alle ginocchia. E noi, quando eravamo all'età loro, andavamo con il nostro compagno, no? A mangiare, te sfonnavi, tanto paga lui. Eh? Tutte carine, tutte belle convinte. Mo' dopo i 40, stiamo sempre a dieta. Quando vai a mangiare col tuo compagno, entri dentro al ristorante, prima cosa, per far vedere che stai a dieta, non tocchi niente, l'unica cosa, ti finisci tre chili di pane. Te pipi i grissini, così. E il saluto di me dice, signora, è venuto al fornaio, se le voglio fare complimenti, se ho tre pagnotte che te mangi. Però ancora gli amo, eh? Arriva quello che ti dice, signora, vuole una frutta? Sì, vorrei un'ananas che brucia. Signora, te devi dà fuoco in macchina, perché se non ce ne fai niente. Dopo i 40 è un macello. Dopo i 40 è un macello. Tu, uomo, non fare mai l'errore. Vicino a tua moglie, dire, amore, prendi un dolce. E lei ti dice sempre, no, magari ne mangi un po' d'artuoso, finisce, tu ne hai manco visto. Se hai mangiato mentre arrivava, per corridoio. Quante cose cambiano. Il nostro metabolismo. Il mio metabolismo quest'anno gli ho detto, dai, arsate, che devo fare la prova costume. Ma guardato mi ha detto, comprate il maione che andiamo in montagna, lascia perdere. Ma chi te fa a fare sto sforzo?